ecco i segmenti utili allo strutturamento dei miei canali orizzontali trattasi di 1 e 1 2 ma se mentre su questo lato la gemma basale è di facile scelta ovvero sia e questa come vedete segue perfettamente il percorso linfatico oltre che la direzione del filare ebbene la stessa cosa non può dirsi con quella collocata alla sinistra dei vostri schermi vedete essa è proiettata completamente verso l'interno della biforcazione qui invece dove sto indicando ovvero sia sull'altro versante del tralcio viene una meglio orizzontata rispetto il filare ragion per cui vado con la punta delle mie forbici ad accecarmi questa maldisposta e a contare una e dunque è diventata questa la mia gemma basale e 2 e faccio lo sperone e ciao a tutti amici e bentrovati in questo nuovo video dopo la precedente puntata all'interno della quale abbiamo parlato della speronatura della vita ovvero sia di quella tecnica cesoria attraverso la quale siamo messi in condizione di forzare i nostri ceppi all'emissione di nuovi tralci oggi siamo ancora qui su al mio terreno per vedere in che maniera invece vanno consolidati i canali orizzontali delle nostre piante allevate secondo i criteri della potatura ramificata ma prima di entrare nel vivo anche di questo video mi raccomando non dimenticare di iscriverti a questo canale e già che ci sei di lasciarmi anche un bel like e allora partiamo subito con un caso di non semplicissima risoluzione come vedete qui i due speroni lasciati nella precedente potatura su secco i quali danno vita a due tralci per lato ebbene al fine di garantire il perfetto orizzontalismo di questo ceppo i due tralci utili al mio scopo sono questi due che vi sto indicando e allora facendo molta attenzione a non violare proprio questo obbligo andiamo con la tecnica che vi ho mostrato anche nella precedente puntata a verificarci il percorso linfatico per farlo non dovremmo far altro che carezzare la vite lungo i suoi fianchi in proiezione dei tralci utili fino a sentire sotto le dita le prime gemme utili in questo caso trattasi di una e due non posso in nessun modo utilizzare questi due tralci che si sono generati dalle gemme distali del vecchio sperone se lo facessi avrei completamente invertito il criterio della mia potatura andandome a creare sebbene in momenti differenti due grosse ferite sul percorso della linfa col rischio di ostruzione dello stesso da parte dei coni di dissoccamento che ovviamente andrebbero a formarsi ma torniamo a noi avevamo detto una e due gemme alle quali vanno di fatto aggiunte una e due e procediamo pure con la creazione dei nuovi speroni uno e due a questo punto sposto la camera da angolatura diversa vi mostro lo step successivo ovvero sia l'asportazione del secco dei vecchi speroni uno e una due vado inoltre ad asportare il vecchio capofrutto adottando la tecnica del legno di rispetto ovvero sia la conservazione di un piccolo segmento di legno atto a scongiurare la formazione di un cono di dissecamento che in questo caso andrebbe ad inficiare di non poco la salute complessiva del mio ceppo e dopodiché vado a selezionarmi tra uno di questi due tralci il capofrutto per la produzione 2024 trattasi in ambo i casi di due ottimi tralci ma credo proprio che la mia scelta ricadrà su quello posto alla destra dei vostri schermi in quanto di un tantino più vigoroso e il gioco è fatto guardate come esemplificativo dell'ottimo lavoro svolto nel corso delle differenti potature che si sono avvicendate negli anni questo ceppo abbiamo qui sulla parte dorsale di questa branca che sta andando a formarsi le tracce dei vecchi speroni mentre il lato demandato alla circolazione della linfa è perfettamente libero da qualsiasi tipo di ferita e questo uno degli obiettivi fondamentali della potatura ramificata ovvero sia preservare il quanto più possibile intatto il circuito idraulico della pianta a cui essa venga applicata e allora con la solita tecnica di ricerca ci imbattiamo nelle due gemme basali utili alla creazione dei miei due diversi speroni una e una due forse questa che vi sto indicando ovvero sia quella alla sinistra dei vostri schermi è leggermente occultata comunque vi garantisco che qui alla base di questo tralcio vi è una gemma aggiungiamo una per ambo i lati e dopodiché procediamo pure con la speronatura ora non fate caso all'orientamento sbilenco del ceppo in oggetto poiché esso dovrà in effetti essere parzialmente ruotato al fine di trovare perfetto orientamento rispetto il filare andiamoci a rimuovere tutto il secco delle precedenti potature rimuoviamo inoltre questo tralcetto avventizio che a nulla ci occorre ed ecco anche il nostro capo a frutto caso numero 3 i due vecchi speroni i quali per ogni lato partoriscono due tralci ecco i segmenti utili allo strutturamento dei miei canali orizzontali trattasi di uno e 12 ma se mentre su questo lato la gemma basale e di facile scelta ovvero sia e questa come vedete segue perfettamente il percorso linfatico oltre che la direzione del filare ebbene la stessa cosa non può dirsi con quella collocata alla sinistra dei vostri schermi vedete e se è proiettata completamente verso l'interno della biforcazione qui invece dove sto indicando ovvero sia sull'altro versante del tralcio bene una meglio orizzontata rispetto il filare ragion per cui vado con la punta delle mie forbici ad accecarmi questa maldisposta e a contare una e dunque è diventata questa la mia gemma basale e due e faccio lo sperone ritorno in basso sul tralcio che abbiamo visto poc'anzi e appunto contando una e due gemme vado a farmi lo sperone anche su quest'altro lato a questo punto posso tranquillamente procedere col rifilarmi il secco del vecchio e dopodiché eliminatomi il vecchio capo a frutto vado tra questi due a selezionarmi il nuovo che ovviamente sarà quello posto alla sinistra dei vostri schermi e voilà e anche per questo ceppo il gioco è fatto esempio numero 4 sono tutti problematici i casi di oggi perché noto su questo ceppo qui lo schianto probabilmente avvenuto in estate del tralcio basale ovvero sia del tralcio che mi sarebbe occorso per formare lo sperone di quest'anno non posso ovviamente andarmelo a ricreare dal nulla quindi in questo caso dovrò fare il mio sperone necessariamente su questa tralcio che la pianta è appartorita dalla gemma distale dello stesso e allora mi conto una e due gemme e vado a speronare a questa altezza rifilo il secco della precedente potatura mentre qui sul versante destro della pianta effettuando la solita ricerca del percorso della linfa mi calcolo una qui alle spalle del tralcio vi è una gemma e due e sperona a questa altezza ed ecco il tralcio che gioco forza dovrà garantirmi la produzione 2024 ve lo sto indicando rifilo il tratto di sperone secco lasciato alla sua base e dopodiché vado a ripulire la testa della mia vite ormai completata da eventuali altri residui di vecchie potature e voilà e anche per questa pianta è tutto esempio numero 5 i due vecchi speroni che partoriscono 1 e 2 e 1 e 2 tralci per lato ma quelli utili al proseguimento orizzontale della mia pianta sono ovviamente questo e questo ed ecco le prime gemme utili che fanno al caso mio ve le sto indicando sui rispettivi lati a queste ne aggiungo una per lato ve le sto ancora una volta indicando e dopodiché sperono una e una due in seconda battuta prima di eliminarmi il vecchio capo a frutto vado a cimare questo vecchio moncherino che ha partorito alla sua sommità un tralcio a ventizio faccio ovviamente andandomi a preservare un piccolo tratto di legno di rispetto che andrò ad eliminarmi successivamente ovvero sia nel corso della prossima potatura invernale ne approfitto inoltre per rifilarmi il secco dei vecchi speroni 1 e una 2 e una volta che mi sono eliminato questo tralcetto a ventizio partorito dalla pianta qui sul versante destro dei vostri schermi vado tra questi due tralci a selezionarmi il mio capo a frutto che decido essere questo e ora anche per questa vita è tutto sesto ed ultimo esempio i due speroni lasciati nel corso della precedente potatura invernale che danno vita due tralci per lato e allora una e due gemme e sperono a questa altezza mentre qui sul versante destro dei vostri schermi una e due gemme la seconda gemma è nascosta sul retro del tralcio e sperono a questa altezza a questo punto procedo con rimuovermi il vecchio capo a frutto rifilo i due tratti di secco degli speroni lasciati lo scorso inverno dopodiché vado tra questi due a selezionarmi il mio nuovo capo a frutto rimuovendomi invece quello che non mi occorre e voilà e anche per quest'ultimo ceppo il gioco è fatto e allora amici intanto che io vado ad ultimarmi il mio lavoro ed effetto le relative legature presso il filo di banchina anche per oggi posso dire che questo mio intervento è concluso e a me non resta altro da fare che salutarvi tutti con un caro abbraccio e darvi appuntamento sempre qui per una prossima puntata ciao 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 ciao